I carabinieri hanno acciuffato il presunto settimo rapinatore della banda che mise a segno una serie di colpi in banca, tra questo e quello alla popolare Sant'Angelo di Ribera. Si tratta del completamento dell'operazione denominata Ulisse. Ignazio Messina riunisce Michele Ferrara, Mario Turturici e Santo Bono, raggruppamento che chiede agli altri schieramenti di azzerare le decisioni già assunte e lavorare alla creazione di uno schieramento il più possibile allargato. E alle elezioni dell'11 giugno prossimo si voterà soltanto in un giorno, dalle 7 alle 23. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Sarà una maratona notturna per scoprire i vincitori. Stesso discorso per l'eventuale ballottaggio del 25 giugno. Tra i diversi punti da cui sgorgerebbero in mare alle terme refugi fognari a denunciarli in un reportage video e fotografico sono i componenti dell'associazione Mizzica che hanno presentato un esposto alla Capitaneria di Porto. Un bando da 50 milioni di euro in scadenza il prossimo 14 aprile per riuscire ad incassare finanziamenti da destinare alle piste ciclabili. L'associazione dell'altra sciacca chiede al comune se abbia predisposto dei progetti a questo scopo. Dopo il via libera la rete ospedaliera per il comitato civico per la sanità occorre tornare a preoccuparsi dei problemi del quotidiano a partire dagli ascensori e della viabilità dell'ospedale passando per la qualità dell'assistenza medica. Benvenuti al nostro telegiornale la cui apertura è dedicata alla cronaca Operazione Ulisse arrestato dai carabinieri il settimo rapinatore. Si tratta della banda che ha messo a segno una serie di rapine in banca e tra queste alla popolare Sant'Angelo di Ribera. Sentiamo. Si chiude il cerchio sulla banda ritenuta responsabile delle rapine in banca messi a segno tra dicembre del 2015 e gennaio del 2016. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno tratto in arresto il settimo componente del gruppo. Le manette sono scattate per Tommaso Gnoffo, pregiudicato palermitano di 56 anni, accusato di avere partecipato alla rapina presso la filiale della Banca Sella di Licata il 18 gennaio del 2016. I malviventi erano riusciti a sottrarre dalle casse dell'istituto di credito circa 5.000 euro in contanti. L'uomo era entrato all'interno della banca a volto scoperto e dopo pochi minuti aveva costretto gli impiegati ad aprire la bussola attraverso la quale erano entrati altri due complici. L'operazione Ulisse era scattata il 12 agosto del 2016 quando i carabinieri della compagnia di Sciacca avevano arrestato sei persone accusate, oltre alla rapina a Licata, di avere messo a segno anche il colpo alla Banca Popolare Sant'Angelo di Ribera il 10 dicembre del 2015 che aveva fruttato 20.000 euro. Tutti e sei componenti della banda sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Sciacca. Si tratta dei riberesi Daniele Centurione e Giuseppe Triassi accusati di avere partecipato solo alla rapina alla Popolare di Ribera che sono stati condannati rispettivamente a tre anni e quattro mesi e due anni e sei mesi. Gli altri quattro sono tutti di Palermo e sono accusati di entrambe le rapine. Si tratta di Giuseppe Cusumano e Salvatore Bruno condannati a cinque anni di reclusione e di Vincenzo Adelfi e Mariano Fecarra ai quali sono stati inflitti quattro anni e due mesi di reclusione. A distanza di otto mesi dall'operazione che aveva già portato all'arresto di sei componenti della banda si sono aperte le porte del carcere anche per Tommaso Gnoffo grazie alle indagini condotte dalla tenenza dei carabinieri di Ribera e dal nucleo operativo e radiomobile di Sciacca coordinate dai sostituti procuratori Alessandro Moffa e Cristian del Turco. L'uomo dopo le formalità di rito è stato tradotto al carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E adesso la politica. Si è creato un nuovo fronte politico a Sciacca a farne parte gli scontenti delle scelte fin qui fatte. Da Ignazio Messina a Mario Turturici, da Michele Ferrara a Santo Bono. Raggruppamento che oggi chiede apertamente agli altri schiaramenti di azzerare le scelte già compiute, di creare un'alleanza nuova e la più larga possibile. Ce ne parla Massimo D'Antoni. C'erano anche Mario Turturici e Salvatore Monteleone, oltre a Michele Ferrara, ieri sera alla riunione promossa da Ignazio Messina per fare il punto della situazione. Sembra potersi configurare un vero e proprio nuovo polo per le elezioni amministrative dell'11 giugno. Auspichiamo che nell'individuazione del candidato sindaco si vada oltre la rigida logica dello schieramento. Non siamo interessati a sostenere candidature calate dall'alto. Questa è la posizione di questo raggruppamento capeggiato da Italia dei Valori che, dunque, conferma di non gradire l'individuazione della candidatura di Francesca Valenti per lo schieramento di centro-sinistra. Ma oggi l'orientamento prevalente non sembra essere più nemmeno quello delle primarie. No, oggi si tenta di scompaginare il campo invocando una revisione delle scelte già fatte. Obiettivo? Creare una coalizione ex-novo, allargata, magari facendo saltare il banco degli schieramenti e le decisioni già assunte. Puntiamo ad unire, dichiara oggi Mario Turturici, a nome di questo raggruppamento, perché solo così sarà possibile far fronte alla pesantissima situazione economico-sociale in cui è precipitata la città, dalla crisi economica che si è abbattuta su tutti i comparti produttivi, alla grave situazione finanziaria del comune, dalla chiusura delle terme, alle criticità dell'ospedale. Per tutto questo, dice Turturici, occorre uno sforzo definito corale. Tanto più che molti comuni siciliani stanno procedendo alla dichiarazione del dissesto finanziario. Per Mario Turturici, che parla a nome di Messina, Ferrara e anche Santo Bono, ex consigliere comunale e un dissidente di Sicilia Futura, occorre essere realisti e scongiurare che anche a Sciacca si possa verificare una simile evenienza che sarebbe, dice Turturici, un autentico disastro, perché graverebbe sui cittadini con un ulteriore aumento delle tasse, già insostenibili, pregiudicando la qualità dei servizi erogati. Insomma, per Ignazio Messina, Mario Turturici, Michele Ferrara, vi sarebbe ancora il tempo per dare vita ad una ampia e nuova coalizione che possa al meglio rappresentare i bisogni dei cittadini che individui in un programma concreto gli elementi della coesione. Ogni sforzo va compiuto per assicurare un governo più forte alla città ed è in tale ottica l'invito alle coalizioni ad un ripensamento delle posizioni già assunte. Viceversa, dice Turturici, ci vedremo costretti ad individuare un nostro candidato sindaco che possa rappresentare un chiaro punto di riferimento per l'elettorato dando vita ad un percorso politico nuovo ed aggregante. Potrebbe essere questo candidato a sindaco il misterioso esponente vicino ad Ignazio Messina che tale dei valori avrebbe proposto alla coalizione di centrosinistra nel caso di via libera alle primarie. In tal senso circola da giorni il nome del giornalista Tony Fisco, già assessore comunale al turismo negli anni 90 durante il secondo mandato di Ignazio Messina. Un appello, quello a mischiare le carte, che difficilmente verrà recepito dal centrosinistra che ha ottenuto da Francesca Valenti il proprio via libera alla candidatura. Il centrodestra invece potrebbe guardare a questa richiesta con maggiore attenzione. Si sa che da quelle parti sono iniziate le grandi manovre per le primarie. Il nome più accreditato per una candidatura al momento è ancora quello di Calogero Bono. Ieri il nostro telegiornale Ignazio Messina non ha negato di apprezzare la scelta di alternativa popolare e di puntare sulle primarie, alternativa popolare che peraltro ha già fatto sapere di sostenere la campagna d'Italia dei Valori in favore della legittima difesa. Insomma, le strade tra queste anime oggi appaiono sempre più convergenti. Riuscirà Messina a portare a termine questo progetto, convincendo magari Turturici e Ferrara, i quali potrebbero ancora apparire riottosi? Vedremo. L'associazione Mizzica, intanto con la coalizione futuro presente, sta completando la lista dei componenti dell'Aggiunta che si presenterà all'elettorato. Uno di questi componenti sarà il candidato sindaco. Non è detto alla fine che questi sia Domenico Contino, anche se al momento rimane il nome più avvantaggiato rispetto agli altri. Nulla di nuovo dal fronte del Movimento 5 Stelle che attende ancora il Via Libera da Roma, dallo staff di Bettegrillo all'utilizzo del logo alle elezioni. Al lavoro per creare la sua squadra, infine Stefano Scaduto, candidato sindaco dei Popolari per Sciacca. Intanto, come anticipato ieri sera, le elezioni amministrative si svolgeranno l'11 giugno con turno di ballottaggio il 25 giugno. I seggi rimarranno aperti solo in queste due giornate, dalle 7 alle 23, quando inizieranno le operazioni di scrutinio. Sarà dunque una vera maratona notturna e non è l'unica novità di queste elezioni. La novità principale delle amministrative 2017 è che si voterà soltanto la domenica. L'11 giugno, come ha stabilito ieri pomeriggio la giunta regionale, con eventuale ballottaggio il 25 giugno. I seggi elettorali rimarranno aperti dalle ore 7 alle ore 23, quando inizieranno le operazioni di scrutinio. È una maratona notturna dunque quella che ci porterà ad avere risultati. Alle ultime amministrative i seggi erano rimasti aperti la domenica e il lunedì fino alle ore 15, quando si era proceduto allo spoglio delle schede. La nuova legge elettorale però ha modificato anche le giornate di voto limitate alla domenica. Lo hanno già sperimentato alcuni comuni in cui le amministrative si sono svolte nello scorso mese di novembre. Intanto, fissate le date di questa tornata elettorale, anche se mancano due mesi, si inizia ad entrare nel periodo clou. Il primo adempimento è quello della raccolta delle firme necessarie a movimenti o partiti che non sono rappresentati in Parlamento per poter presentare le liste dei candidati al Consiglio Comunale. A maggio poi c'è la scadenza per la presentazione delle candidature sia per gli aspiranti sindaci sia per i consiglieri. Le liste vanno presentate nel periodo che va da 25 a 30 giorni prima della data delle elezioni. Agli elettori sarà consegnata una scheda. La nuova legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nello scorso mese di agosto prevede il cosiddetto effetto trascinamento legato al fatto che se l'elettore si limiterà ad esprimere solo la preferenza per un candidato al Consiglio Comunale, automaticamente il voto sarà esteso al candidato sindaco della coalizione. Rimane però la possibilità del voto disgiunto, ossia si può votare per un candidato sindaco e contemporaneamente per una lista un candidato al Consiglio Comunale di altro schieramento. Altra novità, la doppia preferenza di genere, cioè la possibilità di esprimere due voti a due consiglieri candidati nella stessa lista, di cui almeno uno di sesso femminile. Tre diversi punti da cui scogherebbero in mare alle terme reflui fognari a denunciarli in un reportage video e fotografico sono i componenti di Mizzica che hanno presentato un esposto alla Capitaneria di Porto di Sciacca. Sentiamo. Un esposto alla Capitaneria di Porto di Sciacca per denunciare alcuni sversamenti fognari sospetti alle terme con allegato materiale video e fotografico. A presentarlo sono stati i componenti di Mizzica. Dopo il dossier sulle discariche abusive presenti nel territorio di Sciacca e presentato nei mesi scorsi, Mizzica torna a porre l'accento sulla questione ambientale in città. E lo fa con un reportage video direttamente nei luoghi. Una segnalazione dettagliata di reflui fognari che sversano nel tratto di mare che si trova davanti l'area delle terme. Sono tre i punti di sversamento individuati. Uno nel tratto di terreno, limitrofo a coda della Volpe. Altre due invece più avanti, nell'area racchiusa tra via San Paolo, via Madonnuzza e via Agatocle. Quelli di Mizzica, videocamera alla mano, hanno ripercorso prima dalla spiaggia e poi filmato dall'alto i punti in cui i reflui fognari sgorgano in mare. Nel documento consegnato da Mizzica alle autorità competenti si chiede che vengano eseguiti i controlli accertati laddove fossero riscontrate le relative responsabilità. Un'attenzione, quella del gruppo politico giovanile, volta a salvaguardare l'ambiente e il rispetto delle regole in materia alla tutela dell'ambiente stesso. Una questione, tutt'altro che nuova, quella degli scarichi fognari a mare che più volte sono stati in passato gli stessi cittadini a monitorare. Un esempio su tutti è quello di località Foggia, con il foce di mezzo e le sue acque finite sotto i riflettori e poi sotto gli strumenti di laboratorio per analisi che verificassero o meno l'inquinamento del torrente. In quel caso, ad inquinare le acque furono gli scarti di lavorazione di un oleificio e la situazione non riuscì a sfuggire agli occhi dei residenti della Foggia, zona molto abitata, soprattutto nella stagione estiva. Alle terme, i punti individuati da Mizzica sono nascosti dalla vegetazione e di certo non saltano facilmente all'attenzione. Potrebbe invece farlo l'acqua sporca dei reflui fognari che sgorga in mare, reflui sui quali, ci si aspetta adesso, vengano effettuate le dovute verifiche. Una moria di api nei pressi delle strade Agrigento-Caltanissette e Agrigento-Trapani, a segnalarlo è l'associazione ambientalista Mare Amico. Il fenomeno è avvenuto dopo che è stato effettuato il diserbo di queste strade da parte dell'ANAS. L'amoria è riscontrata anche nelle arnie degli apicoltori che sono siti nelle zone, afferma il presidente Claudio Lombardo. L'associazione chiede maggiore attenzione e controlli anche per evitare che i prodotti chimici si infiltrino nel sottosuolo e vengano trasportati dalle piogge nei fiumi e nel mare, creando ulteriore danno all'ecosistema. Un bando europeo mette a disposizione 50 milioni di euro per promuovere la mobilità alternativa, ossia piste ciclabili, mezzi elettrici, trenini turistici, scale mobili. Ma le amministrazioni comunali del territorio non se ne accorgono ed ormai è troppo tardi per parteciparvi, posto che il bando scade il 14 aprile. A segnalarlo gli ingegneri Mario Di Giovanna e Umberto Marsala, progettisti della Greenway Ferdinandea. Grazie, Shack, grazie al piano urbano della mobilità sostenibile di cui già si è dotata, sarebbe stata favorita per ottenere i fondi, dichiara ai nostri microfoni. Umberto Marsala, sentiamo. Un bando europeo da 50 milioni di euro per promuovere azioni di sviluppo sostenibile e soluzioni di trasporto alternativo e intelligente, meno inquinante e in grado di diminuire il traffico urbano. In poche parole avrebbe potuto trovare finanziamento il progetto di pista ciclabile ricadente su Shacka. Avrebbe, perché il bando scade tra pochi giorni, il 14 aprile. Quindi non ci sono più i tempi tecnici per mettersi subito al lavoro e fare sistema insieme alle altre municipalità del territorio, cosicché da raggiungere la quota dei 50 mila abitanti serviti richiesti dalla misura europea. I progetti riceveranno copertura per un massimo dell'80% dei costi totali, mentre la durata massima dei progetti è di tre anni. Oltre alle piste ciclabili, si potrebbero ottenere fondi per mobilità elettrica, car and bike sharing, metropolitane verdi, ascensori inclinati, scale mobili, sistemi di guida automatici e persino per la riprogettazione di strade per prevenire allagamenti tramite barriere verdi. Il bando era, questo bando europeo che riguarda le soluzioni urbane innovative, alternative, purtroppo ce ne siamo accorti troppo tardi, scade il 14 di aprile, era un bando di dicembre. La cosa che è rammarica è che, a parte i tempi che sono troppo stretti adesso per prevedere di partecipare, bisogna studiarlo, il bando, è che comunque trattava di argomenti molto interessanti. Le Greenways in questo caso ci entrerebbero in maniera molto misurata. Le amministrazioni comunali del territorio per le prossime occasioni magari dovrebbero fare per attenzione a questi bandi, a recepirli prima? Eh, vabbè, ma sempre un problema vecchio, quello di arrivare subito in tempo a vedere i bandi, a prenderli. In questo caso non sono bandi regionali, per cui hanno una strada che è ormai abbastanza conosciuta, sono bandi europei, hanno una strada ben diversa e con criteri diversi da quelli regionali, quindi bisogna stare attenti, vederli a tempo, prepararsi prima e quindi avere cognizione su come presentare il progetto e comunque avere dei progetti. In questo caso, purtroppo, dico purtroppo perché i tempi sono molto ristretti, avevamo un progetto, quello delle Greenways, che poteva essere una buona base di partenza per sviluppare, per poter partecipare a questo bando. Lo strumento essenziale per partecipare sarebbe stato quello del PUMS, di cui Sciacca è dotata? Assolutamente sì. Questi bandi privilegiano i PUMS, i piani urbani, senza quelli viene difficile presentare progetti, quindi Sciacca, sotto questo punto di vista, aveva anche lì un podio un po' privilegiato. Un'altra cosa che era molto graziosa e carina del bando era che si prevedeva, ad esempio, delle barriere contro le inondazioni. Barriere contro le inondazioni anche lì è un'altra cosa molto graziosa. Sciacca, voglio dire, è stato l'obiettivo delle cronache proprio per le ultime inondazioni che sono state particolarmente sentite dalla città. E prevede questo bando, ad esempio, la realizzazione di queste barriere. Parliamo di barriere verdi, quindi tramite piantumazioni, alberature che possono contenere i fenomeni naturali come questi qua. Benfi sarà bandiera verde anche per il 2017 per le spiagge a misura di bambino. Il riconoscimento viene conferito da parte di un comitato tecnico composto da pediatri italiani, a quei comuni che meglio attrezzano le loro spiagge per garantire ai piccoli bagnanti un'estate di divertimento in tutta sicurezza e accessibilità. Il comitato ha già stilato l'elenco dei comuni, fra cui c'è Menfi, che riceveranno il riconoscimento il prossimo 3 giugno nella manifestazione organizzata a Montesilvano. La cerimonia verrà affiancata anche da un dibattito con pediatri e medici specialisti. Il via libera alla nuova rete ospedaliera è un fatto importante, ma adesso occorre occuparsi della gestione dei problemi quotidiani. Così oggi Franco Giordano, coordinatore del Comitato Civico per la Sanità. Sentiamolo. Il via libera del Ministero della Salute alla nuova rete ospedaliera è la conclusione di un percorso, ma adesso occorre andare avanti e preoccuparci del quotidiano. E' questa l'opinione di Franco Giordano, del Comitato Civico per la Sanità. Il fatto che a quanto pare si sia concluso questo doloroso iter già è un risultato importante. Gli errori erano fondati, li abbiamo segnalati, qualcuno li ha ridimensionati, va bonta a loro, perché più interventi ci sono, più operai ci sono nella vigna, si diceva, una volta più uva si può lavorare. Allora, al dunque, questo assenso del Ministero significa che con i tempi previsti dalle normative, dalle leggi, dai regolamenti, si dovrebbero sbloccare i concorsi che sono bloccati da troppi anni. Questa è la cosa più importante, che è la premessa per affrontare i nodi più reali, più concreti, quotidiani della sanità, che sono ben più gravi, perché attengono alla gestione quotidiana, attengono alla qualità delle prestazioni, attengono alla qualità complessiva dell'assistenza che viene fornita, dalle performance alberghiere, ai posteggi, agli ascensori, all'igiene, ai rapporti con i pazienti da parte del personale, a certi vizietti che rimangono all'interno dei reparti, alle situazioni ibride e mai chiarite fra pubblico e privato all'interno del pubblico. C'è tutta una serie di questioni che i politici, con i loro collaboratori che sono saltati dalla sede in questi giorni per minimizzare, ridimensionare, eccetera, farebbero bene a seguire con lo stesso interesse, con lo stesso metodo, con lo stesso puntiglio con cui hanno seguito la questione di dettaglio della rete ospedaliera. Dunque, occhi puntati sui problemi di tutti i giorni al Giovanni Paolo II, a partire dall'emergenza ascensori, vero e proprio paradigma dei problemi. È l'elemento dal quale si può analizzare come funziona il resto dell'ospedale. Quando una struttura non funziona bene, non è che funziona bene per un singolo elemento, la sensazione è che è facile registrare, semplicemente chiedendo agli utenti, se voi provate a chiedere che giudizio date, la maggior parte delle persone danno un giudizio sostanzialmente positivo della qualità dell'assistenza e poi hanno molto da ridire sul fatto che persone malate non possono prendere gli ascensori, il vitto è sempre discutibile, la qualità delle superlettili è scadente, la manutenzione praticamente non esiste. Poi Giordano non nasconde di temere che alla vigilia delle elezioni si continui a pensare alla sanità per dinamiche ben diverse da quelle più importanti, ossia la salute dei cittadini. Ognuno chiaramente sotto le elezioni cercherà di tirare la coperta per coprirsi, per scoprire altri, ma a noi il risultato importante è questo, noi abbiamo bisogno che tolto questo macigno che ha occupato l'interesse degli opinionisti, questo della rete ospedaliera, si torni a parlare della qualità quotidiana della gestione dell'ospedale e degli ospedali, che danno sempre di più la sensazione di non servire per le finalità per cui sono stati creati, cioè per i malati, ma che qualcuno vorrebbe continuare a considerare, a utilizzare come bacino di campo, di battaglia per le strategie politiche, politichesi di Tizio, di Caio o di Sempronio che poco hanno a che fare con le esigenze reali dei malati e di chi dovrebbe essere messo in condizione e di assisterli. Sicurezza del territorio e prevenzione incendi, interviene oggi il sindaco di Sciacca, la scerbatura dei luoghi pubblici sarebbe dovuta partire da tempo, scrive Fabrizio Di Paola in una nota, ma l'intervento, come è noto, inserito nel piano Aro è stato finora ritardato da un ricorso, sono comunque avviati, spiega il sindaco, gli ultimi adempimenti per arrivare alla sottoscrizione del contratto con l'impresa che lo scorso dicembre si è giudicato l'appalto pubblico. Dispiace per il ritardo che non è di peso dall'amministrazione comunale che avrebbe voluto iniziare nei giusti tempi e con necessaria efficacia. La riunione con i dirigenti dell'altro ieri, continua il primo cittadino, è stata sollecitata dalla protezione civile regionale nell'ambito di una campagna di prevenzione a contrasto degli incendi. La maggior parte degli incendi si sviluppano in aree private, ragion per cui il sindaco ha invitato i cittadini a dare seguito alle disposizioni e a provvedere entro il 15 maggio alla manutenzione di siepi, cunette e fossati che fiancheggiano le strade. Un quadro sulla situazione della viabilità provinciale che interessa il comune di Sciac è quanto è chiesto di predisporre il sindaco di Paola, i dirigenti dei settori lavori pubblici e Polizia Municipale per segnalare al Libero Consorzio Comunale di Agrigento soprattutto le arterie pericolose. L'iniziativa è stata assunta dopo una nota del commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni Roberto Barberi inviata a tutti i sindaci dell'Agrigentino in cui si evidenziava la difficile situazione in cui versano le strade di competenza della ex provincia in seguito all'ormai cronica insufficienza di fondi per la manutenzione. La conseguente e drastica riduzione dei trasferimenti di risorse da parte di Stato e Regione uno stato di degrado che si è ulteriormente aggravato con le frane, gli smottamenti di fango ed i detriti provocati dal maltempo raccogliendo l'esortazione del commissario straordinario il sindaco di Paola quindi invita i cittadini alla massima prudenza nel percorrere le strade provinciali ex consortili e regionali e a rigoroso rispetto dei limiti di velocità e di tutti i cartelli indicanti i tracciati che segnano pericolo e tratti intransitabili. Meglio tardi che mai i consiglieri Ambrogio e Di Paola commentano così l'approvazione del secondo stralcio della strada di collegamento tra la via Allende e Piazza La Rosa da parte dell'Aggiunta Municipale ai due consiglieri non è andata giù che il progetto sia stato approvato soltanto a fine mandato quando invece per Ambrogio e Di Paola in cinque anni l'amministrazione uscente non avrebbe fatto nulla per la piazza principale della perriera. Sentiamo. Ieri l'approvazione del secondo stralcio della strada di collegamento tra la via Allende e Piazza La Rosa oggi il commento dei consiglieri Simone Di Paola e Giuseppe Ambrogio arriva puntuale la critica dei due consiglieri di opposizione all'amministrazione uscente per aver approvato il progetto soltanto a fine mandato meglio tardi che mai scrivono ironici in una nota Ambrogio e Di Paola per i quali l'approvazione del progetto sembra rientrare in un'operazione di propaganda e di marketing elettorale con la giunta indaffaratissima ad adottare delibera a tamburo battente in una sorta di maschiata finale nell'evidente tentativo di racimolare voti e consensi quello che i consiglieri rimproverano al sindaco e dall'aggiunta è infatti la tempistica e la scarsa attenzione data a Piazza La Rosa ci saremmo aspettati scrivono Di Paola Ambrogio che in questi cinque anni gli amministratori avessero per una volta ascoltato le nostre ripetute sollecitazioni rispetto all'opportunità di porsi il problema di cosa farne di Piazza La Rosa uno spazio urbanisticamente morto senza alcun tipo di funzione sociale o economica né piazza né luogo di aggregazione né altro semplicemente scrivono i consiglieri una colata di cemento abbandonata e degradata non certamente degna del nome che porta Ambrogio e Di Paola non sollecitano adesso l'amministrazione osciente ad affrontare la questione ma al contrario chiedono in conclusione che il tema venga posto al centro della futura competizione elettorale e che rispetto alla riqualificazione di Piazza La Rosa la prossima amministrazione comunale assuma una qualche iniziativa che dia maggiore dignità alla piazza e che soddisfi la voglia degli abitanti della Perriera di poter avere uno spazio dove incontrarsi divenendo il luogo di aggregazione più importante del quartiere nuove opportunità per la marineria Saccenze dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e pesca è uscito un nuovo bando finalizzato a migliorare le condizioni igieniche sicurezza e lavoro dei pescatori vediamo il servizio altra opportunità per la marineria Saccenze dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca sul sito del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana infatti è stato pubblicato il bando sulla salute e sicurezza che ha la finalità di migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori possono beneficiare dei contributi gli operatori professionali della pesca dunque pescatori armatori e proprietari di imbarcazioni il riferimento normativo del bando è l'articolo 32 del regolamento comunitario che ha come priorità quella di promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale efficiente in termini di risorse innovativa competitiva e basata sulle conoscenze mentre l'obiettivo tematico è promuovere la competitività delle piccole e medie imprese al settore agricolo e al settore della pesca e dell'acquacoltura il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 30 giugno prossimo come per i precedenti bandi appena scaduti gli interessati potranno ricevere informazioni e consulenza durante gli incontri periodici nei desk informativi attivati dal libero consorzio di Agrigento le cui attività sciacca si svolgeranno sabato 8 sabato 15 e sabato 29 aprile dalle ore 9 alle ore 13 presso la società cooperativa d'Ancora il FEAMP Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca ha un importante sostegno alla nuova politica comunitaria del settore proprio recentemente è stata pubblicata la graduatoria del bando destinato agli operatori del settore della trasformazione e valorizzazione del pescato e 9 imprese saccenzi che avevano presentato progetti hanno ottenuto finanziamenti per un importo complessivo di 1.700.000 euro Adesso i consigli del libro da leggere a cura della Mondadori di Sciacca Con questa biografia l'esperto vaticanista Austen Niveraig analizza il contesto storico e sociale in cui è maturato il percorso umano e spirituale che ha portato Bergoglio al soglio pontificio l'infanzia in una famiglia di immigrati italiani e la giovinezza durante il peronismo la scoperta della vocazione e il legame con la compagnia di Gesù l'impegno nei bassi fondi e il rapporto con la dittatura infine gli anni da cardinale a Buenos Aires un interessante racconto che permette di comprendere in quale direzione si muove la chiesa di Papa Francesco Tempo di Misericordia di Austen Niveraig Salute si è svolta ieri all'istituto alberghiero di Sciacca la prima giornata di Face Food il laboratorio di educazione alimentare lanciato dalla regione dall'Asp di Agrigento da associazioni di pediatri e nutrizionisti rivolto ai ragazzi delle scuole delle seconde classi delle scuole medie Dante Lighieri Inveges e Mariano Rossi di Sciacca gli incontri hanno avuto il fine di proporre agli studenti scelte alimentari più salutari e consapevoli attraverso la preparazione ad esempio di merende e bevande realizzate con frutta e verdura continua la rassegna di libri una spremuta con l'autore presso la biblioteca comunale di Ribera venerdì 7 aprile alle 17 sarà la volta di Chiara Caterina Maddi con Rodrigo storia di un pan di zenzero un libro destinato ai ragazzi della scuola primaria che l'autrice propone a scopo didattico in quanto alla fine di ogni capitolo vi sono degli approfondimenti e delle schede che riguardano il lessico il vocabolario la grammatica e il testo si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale grazie ancora una volta per averci seguito buon pomeriggio grazie a tutti